L'Asli di Teramo si è giudicata grazie al supporto tecnico del COPE il progetto a valere sulla linea PNRR Missione 5 da 2.196.000 euro per l'acquisto di camper ambulatorio a servizio delle aree interne. I camper attrezzati serviranno diversi comuni della provincia di Teramo come Castilenti, Arsita, Cortino, Fanadriano, Pietracamela, Civitella del Tronto, Valle Castellana, Montefino e Castiglione, Messerraimondo e faranno riferimento ai distretti Asli di Montoro e Bisenti. Un progetto che si pone in maniera sinergica e complementare a quello delle case di comunità. È un risultato importante perché va a colmare un gap di ritardo nelle aree interne per l'assistenza domiciliare, per la salute e la sanità di tanti cittadini che hanno necessità e ne hanno realmente bisogno. Sono risorse fresche e immediatamente spendibili. L'ASL si è resa protagonista di questo successo tra i primi in Italia per aver aggiudicato questo importante finanziamento che, ripeto, può risolvere problematiche importanti di diagnostica ma anche di pronto intervento. Quanto tempo ci vorrà per avviare tutto l'iter? In tre mesi saremo pronti per avviare tutte le procedure di acquisizione dei nuovi impianti, dei camper itineranti, ma anche di tutta la tecnologia diagnostica per far sì che il progetto sia immediatamente spendibile, pronto e attivabile. L'obiettivo è anche quello di snellire gli accessi in proprie quattro presidi ospedalieri esistenti e ottimizzare l'assistenza di prossimità agli utenti. Tutta la riforma territoriale è basata sulla presa in carico del paziente, potrebbe essere il più vicino, cioè, come possiamo dire, nell'ambito del territorio. E questo è ovvio che se viene curato il territorio, a meno che non sia un caso grave, che necessita di ricovero ospedaliero, può essere ben gestito anche dalle strutture territoriali. Le condizioni orografiche non consentono con facilità di mettere le strutture fisse. Ne mettiamo diverse, sia come case comunità, sia come punti di erogazione, nei centri più importanti, nei paesi più importanti, però ci sono ancora dei comuni che ne resterebbero prive di assistenza di prossimità. Quindi si era pensato a questi camper ben attrezzati, che vanno nei comuni a cadenza periodica, in maniera che il cittadino sa che la ASL c'è, l'assistenza c'è, e quindi si sente più protetto e quindi ha più voglia di rimanere nel suo territorio e di essere curato nel suo territorio.